I biancorossi romagnoli per lasciare alla serie D, i giallobio emiliani per restarci. Allo stadio Carbonchi di Sasso Marconi si affrontano per la 37esima giornata la capolista Rimini 86 punti ed il Sasso Marconi penultimo in classifica quota 33 e quindi a forte rischio in retrocessione diretta. In casa biancorossa rientra Tanasa dalla squalifica, ancora out Carboni Averi, assente anche Piscitella. La partita, al quarto Contessa ci prova dal limite dell'area, pallone oltre la traversa. Un minuto dopo Gabbianelli imbecca in area Mencagli che spara a lato. Al tredicesimo punizione di Gabbianelli dal limite dell'area, Auregli si rifugia in corner. Al sedicesimo bel fraseggio delle Rimini, palla Tanasa il cui destro sfila a lato di un niente. Al ventitresimo Tanasa in area si libera bene ma non tira per cercare un compagno. Poi Ferrara serve Mencagli che da due passi la sblocca, Rimini in vantaggio. Quattordicesimo centro in campionato per l'attaccante in maglia scacchi che stacca Gabbianelli come miglior marcatore biancorosso. Al ventottesimo dopo il primo corner a favore di padroni di casa, Pedrelli calcia d'esterno dal limite dell'area. Sole illusione del gol con la sfera che finisce a lato di un niente. Al trentaduesimo Gessi per Torelli, Monti per Draghetti, conclusione neutralizzata senza troppi affanni da Marietta. Al trentatresimo Torelli disegna su calcio piazzato una parabola perfetta che si infila sotto l'incrocio. Niente da fare per Marietta, 1-1. Al trentanovesimo Torelli finisce a terra in area dopo un contrasto spalla contro spalla. L'arbitro lascia proseguire. Si va all'intervallo sull'1-1. Nelle riprese i ritmi calano notevolmente con le due squadre che evitano di sbilanciarsi. Si segnalano soltanto una punizione di Ferrara dal limite dell'area al tredicesimo, ribattuta dalla barriera con il successivo tiro dello stesso Ferrara deviato in corner. E un'occasionissima per Torelli al ventiquattresimo, suo assist aereo di Germinale. Il numero 7 di Gaburro si libera con classe ma poi alza la mira. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio, finisce 1-1. Il Rimini sale a quota 87 in classifica ed è irraggiungibile dalla Ravenna. Può iniziare la festa con la pacifica invasione di campo degli oltre 700 tifosi biancorosse al seguito e la maglietta celebrativa che ricorda i 110 anni del Rimini. Compleanno che il club potrà festeggiare in Serie C. Ed è giusto, ed è giusto che lo festeggi almeno in Serie C, almeno in Serie C. Ecco abbiamo introdotto subito questa terza parte nel migliore dei modi con le prime immagini della festa e ne vedremo delle altre, vedremo tante cose perché insomma ieri a parte la diretta esclusiva della partita promozione delle Rimini su IcaroTV e su IcaroPlay.it. Insomma abbiamo raccolto anche tante immagini che poi vi faremo vedere, molte sono state anche pubblicate sui nostri profili social di Icaro Sport e quindi stasera poi li commenteremo con degli ospiti davvero speciali, davvero speciali. Andiamo subito a scoprire. Andiamone a scoprire. Allora, è qui con noi questa sera il massofisioterapista, titolare di Fisiochinetica, Davide Lodovichetti. Buonasera. Buonasera. Buonasera Davide. Ieri è venuto a vedere la partita con la famiglia per tanti anni, per quanti anni? Davvero tanti, è stato il massofisioterapista della Rimini Calcio. Quasi cinque anni. Quasi cinque anni, anni di bella vista, insomma delle promozioni, però insomma il gusto di una promozione è sempre il gusto di una promozione, vero Davide? Ma assolutamente sì. Ieri ero in curva, ero un tifoso, è stata una giornata bellissima, una giornata stupenda. Ero con i miei figli e quindi è stata una festa veramente meritata, un Rimini che ha strameritato questo campionato e ieri proprio anche diciamo il contorno è stato bellissimo, abbiamo giocato in un campo che una bomboniera, un festeggiamento, un'invasione, io sono stato anche uno dei primi a fare invasione, ho rischiato anche ad Aspo, ho detto qua mi vanno ad Aspo, invece no mi hanno detto che era normale. Che si poteva fare? Però l'ho fatto allo stesso tempo. Appena ti è andato l'ok, tu eri abituato a stare in panchina comunque. Mi sono fiondato, mi sono fiondato, è stato bello anche i ragazzi a festeggiare con tutti i tifosi della Curva Est, del gruppo vari ed eventuali. C'erano tutti i brigati no gastronomici? Tutti, c'erano tutti, e quindi è stato proprio un privé ieri in un contesto bellissimo, un campo fresco. Fresco. Allora, andiamo a calare il nostro Tris D'Assi, perché per festeggiare la promozione, insomma, ben chiesto, tre il vinesi doc. E quindi, abbiamo qui con noi il centrocampista Alessandro Pari, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Alessandro. Poi, l'attaccante Scott Arlotti, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Scott. Buonasera. E l'attaccante Alessandro Pecci, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Vedi, ho messo Scott in mezzo ai due Alessandro, così quando dico Alessandro mi si girano in due. E poi che abbiamo? Che abbiamo? Che abbiamo sentito questa voce sul caldo estivo? Allora, abbiamo qui con noi il nostro opinionista. Sì. E lì possiamo dirlo, sì. Possiamo dire che ormai è un ospite fisso, qua con noi, è stato con noi tutta la stagione, per me è accompagnato in questo percorso. Davide Baglietta, buonasera a Baio. Ciao, buonasera. Buonasera. Con tanto di maglietta, ho scritto 110, la maglietta celebrativa della promozione del Rimini. Ecco, bene, giustamente, insomma, giustamente. Allora, in collegamento potrebbe arrivare Donatella Filippi, che è ancora in redazione, sta ultimando le ultime cose, perché dobbiamo dire che il post-promozione comunque è molto impegnativo per tutti, perché, insomma, io ho fatto le quattro di notte per tutti i montaggi, più tutto oggi. I colleghi della carta stampata hanno iniziato anche a poi lavorare anche per capire anche il futuro di questo Rimini in Serie C e poi, insomma, ne parleremo. Però prima, inizio ad Alessandro, vado in ordine in questo caso, inizio ad Alessandro, prima parliamo, insomma, della gioia grande per aver finito questo percorso con una promozione strameritata, l'ho detto ieri e lo ribadisco oggi, perché Rimini è stata la squadra più continua dall'inizio alla fine e poi, insomma, 87 punti non è che si facciano tutti gli anni. No, certo. La nostra forza è che, appunto, abbiamo iniziato l'anno forte e l'abbiamo finito increscendo. Le ultime partite magari abbiamo perso un po' di punti, ma avevamo comunque un bel vantaggio che abbiamo guadagnato durante tutto l'anno e quindi ciò che è arrivato, cioè la promozione, è tutto di meritato da parte di tutti. Ormai ne abbiamo già parlato tanto ieri tra interviste e persone comunque che ci sono vicine. È un obiettivo che avevamo in mente da inizio anno, dal primo giorno che abbiamo iniziato il ritiro tutti insieme ed era una cosa che volevamo regalare alla gente di Rimini, soprattutto per farli tornare a vivere il calcio a Rimini in maniera diversa dopo le delusioni degli ultimi anni, soprattutto di quella retrocessione a noi ancora amara, visto che l'abbiamo toccata da vicino tutti e tre. E diciamo che si è riuscita a riportare il Rimini dove merita. Scott, stagione di riscatto per il Rimini, per te un'annata un po' particolare, perché hai iniziato con quell'infortunio, poi sei stato fuori diversi mesi, sei rientrato però sul più bello per festeggiare. Sono rientrato sul più bello, però è stata un'annata intensa, bella, diversa rispetto alle mie ultime annate, perché è stata un'annata molto particolare, però ogni annata ricavi sempre qualcosa di importante che ti porti dietro, quindi anche a livello di maturità quest'annata è stata fondamentale. Alessandro, anche per te la grande gioia di una promozione da riminese, immagino sia la prima cosa che uno pensi, che abbiate pensato tutte e tre, immagino. Sì, è una soddisfazione immensa, poi come abbiamo già detto per noi di Rimini magari è ancora più soddisfacente. Per adesso non ho avuto gioie più grandi, speriamo ce ne siano più grandi in futuro. Quest'anno non è stato facile per te trovare minuti perché avevi davanti dei mostri sacri per la categoria, perché insomma, ci aveva anche detto, quest'anno il Rimini aveva tanti attaccanti tosti, difficile trovare posto lì, no? Sì, però come avevo già detto in un'intervista un mesetto fa, mi sembra, sono cresciuto molto quest'anno, più dell'anno scorso, anche se giocavo di più, quindi come ha detto anche Scott adesso, da ogni anno puoi ricavare sempre qualcosa di buono e io ci devo scegliere tra quest'anno e l'anno scorso, scelgo quest'anno. Bene, allora, andiamo a vedere anche questa intervista che ti ho realizzato a caldo, perché hai avuto modo di rivederla, te la faccio rivedere io, sono la mia vista. Allora, andiamo a vedere, ieri abbiamo provato ad intervistare il povero Alessandro, che però è stato colpito da alcuni compagni, non so se c'era anche, non c'eri te, adesso dobbiamo rivedere il gruppo, non ricordo bene, perché era lì che giravano tutti con queste birre e così, vediamo cosa è successo, non... Io sono una persona matura, non faccio... Allora c'era anche lui, adesso lo riconosceremo subito. Andiamo a vedere l'intervista ad Alessandro Pecci. Alessandro, raccontiamo un po' questa vittoria, la tua emozione anche. Eh dai, anche se non ho giocato... Ecco qua, la doccia non la fate più tanto, no? La fate con la birra? Eh forse dai, per un riminese vincere un campionato a Rimini è... Vabbè, è come ogni ragazzo che gioca nella propria città, è la cosa più bella forse. Animazione indescrivibile... No, perché la birra brucia anche un po' gli occhi, non è proprio come lo shampoo che non fa male agli occhi. No, comunque dai, sono molto contento e... Adesso pensiamo all'ultima partita e... E niente, ma... Vabbè, però l'ultima partita comunque andrà ormai, è un successo. Sì, 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 siamo molto contenti e penso che ce lo siamo meritati tutti, dal primo all'ultimo. sia stato sempre un grande gruppo nelle gioie, nelle difficoltà e ce lo meritiamo tutti. Bene, allora grazie, ti lascio andare così almeno ti puoi sciacquare un attimo gli occhi. Allora, è stata un po' l'intervista più difficile della tua vita fino adesso, Alessandro, questo. Per fortuna che ho tolto il microfono in quel momento perché sennò magari sentivi... L'intervista in precazione. Da 1 a 10 quanto bruciavano gli occhi con questa birra? Abbastanza, 9, 9, 8, 9 bruciavano. Però devo assolvere il maturo Alessandro Pari perché non eri in effetti... C'era. In quella spedizione, in quella spedizione non c'era. E non gli faccio questi giochi. No. Magari era il mandante quello che hai scocitato tu. No, ma perché non l'ha fatto... Era fare i danni da un'altra parte. Sì, ecco, non l'ha fatto ad Alessandro ma in contemporanea era lì che stava... Cioè, ieri è stato, diciamo, lavorare in quelle condizioni e devo dire che è stato, da una parte, molto piacevole perché quando si parla di una festa, di una promozione, del Rimini poi in particolare per me, insomma, è sicuramente sempre molto bello. Ma è stato più complicato quasi per l'incursione dei giocatori che dei tifosi che sono stati invece molto più, devo dire, pacati giustamente davanti alle telecamere. Vai, allora. Ti abbiamo anche visto prima passare lì che facevi selfie, immagini, che poi abbiamo messo anche su News Rimini. Cercavo anch'io di darti una mano. Una grande gioia però, una grande gioia. Ci sono stato tirato in mezzo anch'io in qualche festeggiamento. Insieme a tutta la squadra mi hai visto io, urlavo lì, ci hanno infiltrato, ha fatto l'uscita. Va bene, invece ci siamo abbracciati tutti. Sono quelle cose che finché non le vivi fai fatica ad immaginarle e dopo fai fatica ad escriverle perché si scade nella retorica. Invece lì è proprio goduria allo stato puro. Allo stato puro, sì. Sui tre ragazzi posso dire una cosa velocissima che è vero che hanno ognuno a loro modo fatto fatica quest'anno ma non sono mai stati banali quando sono scesi in campo. Sono sempre stati incisivi e quindi io la penso come loro su questa annata. Per loro non è stata assolutamente un'annata sprecata, anzi. Ma giustamente. Allora andiamo da Bike Service perché questa sera, tra l'altro, visto che è una serata speciale, quante vignette hai preparato, Baio? Ben quattro. Quattro. Four, four, quattro. Quattro vignette e tra poco ci guidiamo una prima. Prima andiamo da Bike Service. Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità, prezzi vantaggiosi. Aperto anche sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in Via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Tanti, tanti messaggi da casa. Allora andiamo a leggerne qualcuno. Buonasera a tutti. Volevo fare i complimenti a tutta la Rimini Calcio, a tutti i fantastici tifosi biancorossi. E le statistiche non sbagliano, miglior difesa al 95% vinci il campionato. Questo è per il discorso che facevamo prima. Certo, 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 è vero, è vero. Insomma, la difesa del Rimini è stata ottima, ma anche l'attacco direi che non ho scherzato affatto. Ma direi che in generale... Direi che io metterei la firma per fare tutti i campionati così, perché secondo me hai molte possibilità di vincere i campionati, se non sei un cammino del genere. Grande Scott Arlotti, il giocatore più rinominato della storia del Rimini. Scotti, scusami, Scotti Arlotti. Scotti Arlotti? Va bene, in realtà sarebbe Scott. Buonasera a tutti. Volevo sapere se domenica prossima la squadra e i tifosi ritornano in Piazza Fellini a festeggiare la promozione, in Serie C, essendo l'ultima partita in casa. Vai Luca. Allora io penso che la festa alla Rotonda, giustamente, è stata fatta ieri col Pullman, tra poco vedremo l'immagine a proposito, ma domenica prossima la festa sarà allo stadio. Adesso, non so, però penso che la grande festa domenica prossima per tutti i tifosi bianconosi sia venire allo stadio e vedere una partita, per il gusto di vedere una partita, perché non varrà più niente per il Rimini, ovviamente, a livello di classifica, se non per arrivare a quota 90, che può essere comunque un piccolo grande obiettivo, con il lentigione, con uno degli avversari che comunque hanno cercato di mettere il bastone tra le ruote era il Rimini e quindi la grande festa è lì, insomma, non alla Rotonda, dove già i ragazzi sono andati ieri, tutta la squadra, il Pullman, poi vedremo, ma sicuramente allo stadio Romeo Neri in occasione della partita. Quindi ne approfittiamo per dire già da adesso, domenica tutti allo stadio, perché questi ragazzi meritano di essere celebrati nuovamente allo stadio, ma è lì, è quello il luogo dove il Rimini deve essere celebrato. Grazie Pressrota per aver regalato a noi tifosi biancorossi un anno pieno di successi e con la ciliegina sulla torta, con un ritorno nel calcio che conta in Serie C. Claudio Bartolucci. Giusto, ci accodiamo, ci accodiamo. Tra poco sentiremo anche il presidente. Poi ieri non abbiamo intervistato un altro personaggio che secondo me è determinante per questo Rimini, che è il direttore generale, Franco Peroni, che è un'altra persona che è rimasta sempre praticamente dietro le quinte, ma che comunque ha fatto davvero tante cose per rendere questa società una società importante, una società che ragioni in ottica professionale per tornare tra i professionisti. E infatti dicono, Grande Rimini, rieccoci con un gioco di parole. Con la cigra maiuscola. Speriamo di non scendere più. Speriamo. Grande Rimini, ora aspettiamo il derby con il Cesena. E beh. Adesso speriamo anche il basket. Domani tutti al Flaminio, nella vittoria di tutti e due i Rimini. Ci crediamo. Andrea Scuolavaio. Andrea, noi calcio.basket, noi siamo i primi, siamo i primi. Tra l'altro, insomma, media partner sia delle Rimini Calcio che di RBR, di cui tra l'altro Icaro TV è anche social, quindi insomma più di così. Bene, allora direi, sentiti i primi messaggi da casa, i primi umori, e poi invece sentiamo la prima vignetta e vediamo soprattutto la prima vignetta di Baio, la vignetta dedicata a Mr. Gaburro. Poliedrico Gaburro. Colleziona promozioni e scrive libri gialli. Mr. Mister. Giusto, tra l'altro lo sto leggendo il libro di Mr. Gaburro, eh? Lo sto leggendo proprio in questi giorni. Poi dopo gli dirò un giudizio anche su quello, oltre che... Avete letto il libro di Gaburro, voi? Sì. Allora, guarda, l'onestà, l'onestà del buon pari che praticamente... Che lui è maturo, lo sapevamo. È maturo, esatto. E invece, guarda invece la disonestà di Scott che fa sì, sì, che invece non è vero. Furbo, l'astuzia, la malizia. Sapeva neanche scrivere se libri. Eh, ne ha scritto uno, scritto bene, è scritto bene, è scritto bene, è scritto bene. Poi vi dirò, vi dirò anche, farò una recensione su Instagram poi, dopo, quando lo finisco, eh? Il riassunto, che così facciamo prima a leggerlo. No. Ma è l'assassinio, ce ne trovo. No, vuoi il bignami, vuoi il bignami, Alessandro? No. Allora, ti piace, insomma, perché abbiamo parlato dei tuoi trascorsi nel Rimini, ma ci sono dei trascorsi anche da calciatore di ottimo livello. Quindi, da ex attaccante, ti piace il gioco proposto da Mr. Gaburro? Lo faccio dire a te, perché chiaramente loro non si possono sbilanciare. Poi se lo chiede a Scott, mi dice, ma l'attore migliore del mondo? No, no, sto scherzando. No, mi piace molto, mi piace molto, perché tutte le partite che sono andato a vedere, c'è sempre stato un bellissimo gioco, è una squadra, come avete detto prima, che non prende molti gol, però fa divertire. Ecco, quello che ho sentito sempre in giro è che la gente si divertiva. E quindi è una cosa bella, perché quando vinci e convinci, si torna a casa sempre col sorriso sulle labbra. E quindi anche ieri, va bene, ieri è stata una partita giocata, diciamo, per festeggiare, e quindi ci sta il pareggio, perché alla fine... Bastava? Bastava, però le altre partite sono sempre state giocate. La cosa bella che mi è piaciuto è che anche nei momenti difficili, di difficoltà, si è sempre riusciti anche a nascondere, magari, periodi opachi, dove magari la condizione non era al massimo. E volevo anche sottolineare che Riminicaccio ha avuto anche pochi infortuni. Quindi va a merito anche al preparatore, a tutti i ragazzi dello staff, perché i campionati li vinci anche con lo staff medico. Ieri poi c'era Maurizio Brigliadori, che lavora con me. E quindi quando hai un buono staff, sia tecnico che medico, quei 7-8 punti durante l'anno li porti sempre a casa. Poi c'è anche il mister Contento che è il mister Promozioni, tra l'altro. È il mister Promozioni. E quindi... Diceva ieri, insomma, è una sequela di promozioni importanti. E quindi è una cosa molto positiva. Sono stati molto bravi anche nei momenti di difficoltà a nascondere magari certe magagne, magari con l'1-0, con il risultato risicato alla fine, però i campionati si vincono anche così. Non si può sempre giocare bene al 100%, altrimenti comunque 87 punti, quindi un campionato strameritato perché proprio ieri Ravenna c'è stato dietro fino alla fine, altrimenti dalla terza penso che abbiamo 30 punti, quindi è stato dalla quarta. Dalla quarta, sì sì. C'è stato proprio una voragine. Sì sì, tra le prime tre e il resto. E quindi è giusto così. È giusto così. Donatella Filippi è con noi, ci ha raggiunto direttamente dalla redazione della Carlino. Buonasera, adesso a casa immagino, vero Donatella sei a casa adesso? Non ti sentiamo, ecco, è il grande classico. Vuoi fare una puntata in cui la sentiamo dall'inizio? No. Eccomi! Ecco! No, no. Ma è perché mi dimentico dove devo schiazzare. Chissà perché, chissà perché. Allora, ti volevo dire, quanto ti sei divertita ieri? Ma sì, diciamo che ci siamo divertiti più del solito. Più dopo? Durante la partita. Sì, la partita non è stata divertita. Divertentissima, insomma, diciamo. Però, va bene, se la prendiamo com'è e ci prendiamo quel punto fondamentale che ha chiuso, come si deve, una stagione per il resto entusiasmante dall'inizio alla fine. Diciamo quasi alla fine, visto che ieri non è stato particolarmente entusiasmante, ma ieri contava effettivamente solo il risultato finale. Ecco, e invece il bilancio di questa stagione, che non è ancora finita, ricordiamo, perché, insomma, tra poco poi inizia la pool scudetto, quindi, insomma, Rimini andrà avanti a giocare anche nelle prossime settimane. Vedremo quanto, insomma. Ma che ho scoperto oggi, oltretutto, per diventare campioni d'Italia bisognerà aspettare il 15 giugno. Sì. Beh, no, dai. Anche meno. Arrendiamoci. Quindi sei per un'uscita rapida, mi sembra di capire? Ma no, no, per carità ti mancherebbe, però, insomma, il 15 giugno mi sembra impegnativo. Eh sì, sentiamo cosa ne pensano i giocatori. Parto da Scott. Ma secondo me sei sull'aria dell'entusiasmo e della vittoria, però puoi giocare anche lì. Ovvio che più vai avanti con i mesi, arriva il caldo, più è faticoso giocare, però... Il nostro lavoro è... andiamo a farlo. Però, Alessandro, potrebbe anche essere l'occasione per anche avere un po' più di spazio, no? Perché... Sì, ovvio. Quello sì. Quindi a te piacerebbe andare avanti. Sì, adesso allenarci lo stadio è una bella mazzata comunque, però... Però sì, la facciamo volentieri. Si fa volentieri? Si va avanti volentieri fino al 15 giugno anche con un filo di gas, eh, Alessandro? Tanto è il nostro lavoro, siamo pagati per farlo, quindi... Penso che ci siano lavori molto peggiori. Vabbè, certo, sì. Questo è poco ma sicuro, insomma, devo dire, in effetti. E quindi... È quasi un vecchio saggio. Maturo, maturo, l'ha detto dall'inizio. Fra poco cade. Fra poco cade. No, devo dire che... Fra poco cade. È tutto grazie a Pancari, però. Scatenato. Ma ieri dici scatenato? Scatenato, cioè l'ho visto impegnatissimo nei festeggiamenti. Eh beh, è uno che, insomma, giustamente con la sua grande saggetta, però... Era tutto nelle sue mani, eh. Ah sì, esatto. Era tutto nelle sue mani. Ho reso i festeggiamenti belli. Direttore dei lavori. Esatto. Ma anche i fuochi d'artificio erano operatua poi alla fine, eh? No, quelli no, quelli no. No, non esageriamo di... Non esageriamo. Non mi piacciono quelle cose, infatti non ci ho pensato io. Non sei stato te, ok. Vabbè, ci andiamo a sentire, mister Gaborno, così ci andiamo a sentire, è uno dei grandi problemi, anche perché dice una cosa molto bella anche proprio sulla squadra. Andiamolo a sentire. Penso che la promozione non sia stata oggi, penso che la promozione sia costruita domenica dopo domenica. È stato un campionato veramente molto, molto impegnativo. Bisogna fare i complimenti anche ai nostri avversari, sia Ravenna sia Lentigione, perché ci hanno reso veramente la vita difficile, però penso che quando fai 87 punti devi commentare poco. Eh sì, oggi, primo tempo in cui, insomma, si è giocato nella ripresa, stava bene a tutte e due l'1-1, visto i ritmi più blandi, insomma, ma ci sta, eh? Dopo una cavalcata così, con un tempo così, tra l'altro, perché faceva anche molto caldo. Ma no, ma noi obiettivamente dovevamo difendere il punto, pensi che l'abbiamo difeso da squadra, non abbiamo concesso praticamente niente, abbiamo fatto capire subito agli avversari che era difficile arrivare dall'altra parte e poi stai agli avversari a decidere che atteggiamento ottenere. Io non posso decidere l'atteggiamento degli altri, però penso che oggi non abbiamo fatto un punto, penso che oggi ne abbiamo fatti 87. Un percorso davvero bello da parte del Rimini ed è stato bello anche perché c'è stata questa rivalità con Ravenna. No, sicuramente. Io penso che i campionati bisogna fare in due. In tanti hanno parlato di record. Quest'anno io vorrei capire qual è il record della terza, perché penso che questo è il campionato con la terza che ha fatto più punti nella storia e questo fa capire la difficoltà del campionato. Quindi, ripeto, onore agli avversari, però credo che siamo avanti dalla quinta giornata. Siamo stati avanti anche sempre di 4-5 punti, penso che ce lo siano strameritato ed è stato un capolavoro dei ragazzi, della società, di chi ha messo le cose giuste al posto giusto perché non si vince solo con la squadra, si vince anche con le altre componenti che secondo me non ha mai fatto mancare niente. Un capolavoro, Baio, ti piace? Assolutamente, sì. Bella, bella in effetti. Allora, andiamo a questo punto con qualche altro messaggio. Allora, questo messaggio dice Speriamo sia confermato Mr. Gaburro e che entri qualche nuovo socio. Ci sono nomi? Forza Rimini. Adesso sono tutti impegnati nel festeggiamento, è troppo presto, è troppo presto. Poi, adesso mantenere la concentrazione per lo scudetto. Quest'anno ci dobbiamo puntare, ragazzi. Firmato R. Ok. Poi, i giocatori giovani di Rimini sentono di più la maglia e mi auguro che possano essere sempre di più in rosa, da Paolo. Eh sì, beh, poi giovani riminesi in effetti, sì, intanto non so se... Però ha detto R rota, detto il Presidente. Allora, a proposito del Presidente, andiamo a vedere la tua vignetta che ci introduce invece le parole del Presidente che andiamo subito a sentire. Però prima vignetta. Una delle immagini più belle è la squadra che lancia in alto il Presidente. Alfredo Rotea. Bellissima, bellissima. Andiamo a sentire Alfredo Rota. È stato bellissimo, un'emozione fantastica. L'aspettavo una bella festa così ed è arrivata, bello. Sono felice per tutti, per i ragazzi che hanno dato l'anima dalla prima partita all'ultima, ai dirigenti, ai tifosi. Sono contento per tutti, per tutti veramente. Una gran bella soddisfazione. In un anno è cambiato tutto. Ricordo qui, tra l'altro, insomma, con l'incontro con i tifosi a cui avevo offerto da bere, ricordo l'anno scorso, però c'era tutt'altro clima. In quest'anno il clima è il clima giusto, il clima di una città che ha riscoperto l'amore per la sua squadra e credo che in questo ci sia una grande soddisfazione anche del Presidente. Sì, ma l'ho vissuta anche girando per la città. Ho proprio percepito e vissuto la vicinanza dei tifosi, anche delle istituzioni, del sindaco. Abbiamo vissuto delle belle emozioni e dei bei momenti. Adesso dobbiamo lavorare per il futuro. Ci impegneremo sempre in silenzio, sempre senza tanti clamori, perché poi alla fine quello che parlano devono essere i risultati. Il silenzio è d'oro, il silenzio è d'oro. Donatella, hai qualche novità? C'è qualche cosa per quanto riguarda il Presidente, per quanto riguarda la società? Ti sei già messa in moto? Per quello che mi chiedi, perché sai che io subito, io non festeggio. Lo so, lo so. Te infatti quando dicevano, quando dicevano sì, ne parleremo domani, oppure ci prendo due o tre giorni. Ho visto che scuotevi la testa e ho detto, no, già stasera basta e ringraziate, che vi conceda stasera, da domani sul pezzo, già così. Sei così proprio. Sì, sì. No, sicuramente qualcosa c'è, se bulle in pentola, sicuramente un imprenditore che possa fiancare rota, c'è. ed è imminente l'ingresso. Puoi che siano più di uno, magari questo si capirà strada facendo. Però, da quel punto di vista, mai lo diciamo da, poi non è una grandissima notizia, perché lo diciamo da settimane, ma adesso... Certo, da un po' che lo diciamo, sì. Ecco, bisogna stringere, no? Anche perché si ha un po' di vantaggio rispetto agli anni scorsi nel costruire il più sicuro e quindi è bene guidercelo tutto questo vantaggio. È vero, è vero. Allora, intanto che ci sono altri messaggi e considerazioni varie, io direi di far così. Ci andiamo a vedere e a sentire, magari le teniamo a un volume medio in modo che si sentano i tifosi, i cori, ma che riusciamo anche magari a parlare, a dire qualcosa. Eccoli qua, le immagini della rotonda, perché, insomma, ieri è stato, d'immagino, parto questa volta dalla re dei festeggiamenti Alessandro Pari. Allora, che cosa avete provato quando siete arrivati col Pullman in questa rotonda piena di tifosi? Vabbè, già c'era stato il bagno di folla a Sasso Marconi, erano più a Sasso Marconi che alla rotonda, però è stato un momento molto bello, anche questo. E più che altro perché non siamo arrivati neanche prestissimo giù a Rimini, visto che comunque noi siamo un po' protratti, un po' tanto. Sì, erano le 21 e 30 circa? Sì, anche forse poco dopo. Sì, sì, sì. Adesso non so bene l'orario. Però comunque, appena siamo arrivati abbiamo visto comunque tutta sta gente che ci ha aspettato per festeggiare insieme a noi e sinceramente ci ha fatto veramente tanto piacere perché si è sentito veramente il calore della gente per la maglia in questo caso e tutti quanti siamo rimasti anche stupiti perché non pensavamo potesse succedere, soprattutto visto ritornando al passato, gli ultimi anni. Scott, è stato anche bello perché è sempre bello quando i tifosi e i giocatori saltano insieme, ballano insieme, si abbracciano, poi tra poco vedono delle immagini tra l'altro che ti riguardano da vicino con dei abbracci molto belli con i tifosi. È stato bello, parlavo con i ragazzi ieri che tra le tre promozioni che ho fatto qua a livello di festeggiamenti è stata quella più emozionante. Guardate intanto Antonio detto Ciro Ferrara guardate lì al clacson. È stato bello, è stato emozionante come diceva Ale ci ha sentito tanto il calore della piastra e come diceva anche prima Francesco vincere un campionato a Rimini non è come vincere da un'altra parte quindi è stato molto emozionante. Come è stato Alessandro questo abbraccio? Molto, molto bello già da inizio partita io Ale ci siamo guardati quando hanno cantato Romagna Mia ai tifosi e eravamo già emozionati tanto. Lì è stato quasi più emozionante arrivare in piazza che a Sassu Marconi perché proprio lì c'è stato un affetto veramente incredibile da parte dei tifosi. È vero, è vero e forse è lì col fatto che insomma non c'era più la differenza tra il giocatore e il tifoso anche se vogliamo nell'abbigliamento è stato proprio una bella commistione una bella unione molto, molto bello sì Ma io non sei venuto però te alla rotonda sono arrivato tardi ah ecco sono arrivato che la gente si arrivava c'era il pullman che andava via tristemente dopo vediamo le immagini e ci hai portato le immagini a far vedere le immagini con il pullman che va via no perché ero scutta ero già andato ero già andato il pullman anche te Lodo non sei venuto io c'ero queste immagini le ho raccolte io non sono venuto perché sono andato a casa io avevo già festeggiato al campo ero già a posto anzi ripeto è stato bellissimo anche in campo puoi vedere mi è piaciuta la vignetta che ha fatto sul presidente perché mentre i tifosi lo lanciavano in area qualcuno faceva dopo i selfie con i giocatori ho detto va a finire che scatta la tragedia e quindi c'è andato te c'è andato te e hai detto va a finire che scatta la tragedia ma c'era anche te tra quelli che lo facevano saltare c'era anche io c'era anche te sì ma anche il sindaco Jamil che foto selfie con tutti ma anche lui ha fatto saltare il presidente no lui no chi è che lo prendeva il presidente fisicamente i giocatori tutti i tifosi e sono contento anche per il sindaco ci vorrebbe una viola sicuramente si è divertito e sono convinto che nessuno gli ha parlato ieri di parcheggi di qualsiasi cosa anche lui ha festeggiato ed è stato veramente bello bellissimo però Donatella in un post noi l'abbiamo ripreso su News Rimini mentre continuiamo a vedere l'immagine ovviamente ha parlato cioè ha detto delle cose significative ha detto che la città deve stare vicina a questo Rimini e poi ha parlato anche della voglia di mettersi a tavolino l'anno prossimo con la società per ammodernare le curve cosa che ai tifosi che vediamo inquadrati in particolar modo che sono soprattutto della curva est insomma sta particolarmente a cuore perché insomma sono anni che lo diciamo la curva messa lì è sacrificata è troppo lontana dal campo insomma la curva deve essere secondo me dietro alla porta perché deve essere un fattore anche casalingo insomma del Rimini Donatella vengo da te ecco intanto il dottore il dottore il dottore contento e qui mi è stato chiesto anche da Germinale che lo vediamo subito dopo mi è stato chiesto un commento diciamo un commento sulla promozione è tutto un anno che ne parlo cosa ti devo dire di più ecco qui scusami scusami Donatella prima di venire da te stiamo vedendo questi abbracci molto belli di Scott grande emozione Scott bello molto bello adesso vengo da te Donatella no volevo sapere se hai firmato anche qualche autografo chi te no ha avuto la sua parte di cori anche bo allora sì qualche selfie qualche selfie l'abbiamo fatto con qualche tifoso giustamente ma ci sta fa parte del giustamente dai ci sta ci sta però insomma soprattutto ero lì per riprendere per documentare come possono testimoniare i nostri ospiti quelli presenti quelli che non sono arrivati tardi o quelli che no allora su questa dichiarazione del sindaco sì vabbè è chiaro che dire che parlare delle curve in questo momento se non so cosa voglia dire a modernare se avvicinare il campo non lo so ecco lì bisognerà entrare nello specifico del discorso però è anche vero che Romeo Neri da qui a poco tempo è destinato a cambiare un po' faccia no il terreno di gioco che sarà la prima cosa già quest'estate poi la copertura dei distinti da questo si aggiungeranno anche le curve in qualche modo non so se avvicinate il campo non capisco in questo momento cosa voglia dire a modernare però ci torneremo sopra è certo poi anche giustamente ho voluto precisare che non vuol fare quelle promesse sullo stadio così che rimangono però vedremo nei prossimi mesi è stata però significativa anche la presenza del sindaco in trasferta perché non è stata poi una cosa che è capitata spessissimo anche se la partita era una partita quasi certa insomma per quanto riguarda la promozione matematica allora adesso andiamo dal quartino e poi torniamo perché c'è un'altra vignetta di bio che scalpita è lì è lì che sta venendo fuori il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'osteria il quartino a pranzo a cena da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio osteria il quartino tutta la qualità romagnola allora è arrivato credo il messaggio il messaggio dell'anno più bello ed è per te Donatella sappilo che è per te ah beh e dicono mia moglie si chiede se Donatella sta parlando dalla cabina armadio la cabina armadio può darsi perché c'è un po' di tutto forse alle mie spalle è favolosa domanda dell'anno domanda dell'anno questa però guarda il prossimo anno siete tutti invitati qui e la facciamo da qui va bene tutti nella cabina armadio della Filippi prepara gli affettati ancora questi affettati come Francisco Pancari abbiamo un comitato preseduto da Pancari io sono il vicepresidente ma lo sai che prima di accettare il ruolo di responsabile di comunicazione Pancari ha voluto chiedere allora metti gli affettati o no? ho detto no allora vado a fare il responsabile di comunicazione del Rimini ti sei perso io ho fatto una vignetta che dice che insomma abbiamo perso audience andiamo a vedere questa vignetta con cui l'audience risalirà quella dedicata al direttore generale Peroni la squadra ha fatto un campionato a tutta birra mostrando un gioco spumezzante si è visto il marchio di fabbrica del direttore generale bella anche questa bella anche questa allora adesso ci andiamo a vedere perché dobbiamo anche far vedere anche perché insomma sono stata tutt'oggi a fare questi montaggi anche i gol della giornata della 37esima penultima giornata ovviamente partiremo con i gol dell'1-1 tra Sasso Marconi e Rimini e poi insomma intanto commentiamo qui in studio continuiamo a parlare anzi partiamo meri con qualche messaggio intanto possono partire i gole e così ci rivediamo questo gol numero 14 tra l'altro di Mencagli che così ha scavalcato perlomeno momentaneamente Gabbianelli che potrà però nell'ultima sfida anche raggiungere eventualmente anche superare in caso di doppietta però insomma la cosa importante è che abbiamo segnato tutti e due per i Rimini hanno segnato tanti gol tanti gol insomma vengo da Davide Lodovichetti un ex bomber insomma 14 senza rigori per Mencagli 13 per Gabbianelli che invece ha tirato i calci di rigore grossissimo risultato 14 gol poi senza rigori calcolando che di solito in un anno almeno quei 4-5-6 rigori si battono è un ottimo risultato un ottimo eh sì molto molto bene ecco qui intanto vediamo il 2-0 del Ravenna sul Borgo Sandonnino ne approfittiamo per fare i complimenti anche alla stagione del Ravenna perché insomma merita comunque di essere citato e se Rimini immagino anzi lo chiedo lo chiedo ad Alessandro se Rimini ha fatto così tanti punti credo sia anche perché sia stato pungolato tutte le settimane dal fatto di avere lì alle calcagne attaccato il Ravenna certo certo assolutamente loro ci hanno dato un motivo in più per vincere tutte le partite infatti la nostra forza è stata anche star davanti nonostante avevamo pressione tutte le domeniche perché non ne sbagliavano una c'è stato un periodo dove abbiamo fatto 10-11 vittorie di fila mi sembra sono tante sono veramente tante poi tutte di fila però noi siamo stati lì calmi lucidi avevamo punti di vantaggio guadagnati da inizio anno abbiamo vinto meritatamente il campionato però sì sicuramente c'è da fargli complimenti a Ravenna come a Lentigione ma soprattutto a Ravenna e sì Scott in effetti anche Lentigione merita i complimenti perché noi abbiamo sempre parlato del duello tra Rimini e Ravenna perché in effetti così è stato ma tirando le somme alla fine non è che si è arrivato molto distante anche il Lentigione no e ti dirò anche che c'ha un gran bel gioco mi piace tanto come si mettono in campo come come muovono la palla e complimenti anche a loro ovviamente allora noi intanto abbiamo anche il miglior bianco rosso in campo andiamo a vedere il podio di questa penultima giornata con il terzo posto per Simone Tonelli con il 14% dei voti il secondo per Lorenzo Loduca con il 25% dei voti miglior bianco rosso in campo secondo i nostri amici che hanno votato sul sito News Rimini è Andrei Tanasa con il 30% dei voti altra grande partita da parte di Tanasa capitano di questo Rimini insieme al Germinale che poi ha detto io la fascia ce l'ho quando non c'è la Tanasa però quando c'è Tanasa è lui comunque insomma sicuramente uno dei segreti di questo di questo Rimini un giocatore Alessandro vengo da te che hai praticamente lo stesso ruolo sì per te è stato un po' penalizzante no? il fatto di avere un giocatore così in squadra per lo spazio però credo che quest'anno davvero ci sia stato tanto da imparare ad un giocatore così sì assolutamente sono onorato di aver giocato con lui perché mi ha insegnato veramente tanto poi ripeto per me siamo due giocatori completamente differenti lui più strutturato fisicamente e di cattiveria eccetera io magari sono un altro tipo di giocatore però questa cosa mi ha fatto insegnare anche un altro ruolo perché il mister mi ha adattato anche da mezzala spesso quest'anno e devo dire che sono riuscito ad apprendere molto meglio il ruolo e infatti me lo sento più mio e questa cosa è una cosa molto positiva quest'anno quindi è comunque un anno diciamo per me personalmente positivo al di là del ruolo di Tanasa che comunque occupava lo stesso posto che dovevo occupare io però comunque sia chapeau alla stagione di Tanasa perché è stato fenomenale dalla prima all'ultima è bello che abbiamo sentito due giovani biancorossi che hanno trovato meno spazio perché c'erano giocatori molto molto forti ma con un rimini diverso rispetto a quello dell'anno scorso e tutti e due i due Alessandro ci hanno detto appunto che in questa stagione hanno avuto modo di crescere di più rispetto a quella passata dove avevano giocato molto di più insomma vuol dire che negli allenamenti anche si impara tanto come ben sai anche tu Meri allora andiamo a leggere tanti messaggi perché ce ne sono davvero tanti cerchiamo di dare un po' di spazio non potremmo leggerli tutti magari però allora in questo momento mi piace pensare che anche Bella Vista da lassù guarda e sorride e beh questo sicuramente no Davide sicuramente da grande tifoso biancorosso contentissimo sicuramente eh già grande rota è proprio vero che il vino buono sta nella botte piccola grande bonfa telecronica interviste alla Galeazzi grande baio ma quanto ti sei divertito ieri è vero che non volevi più uscire dallo stadio grande gaburro nuovo vocalista dei cugini di campagna i 50 è vero poi abbiamo sentito anche l'urro di gaburro scendendo dal pullman lo vedete anche sulle nostre pagine social grazie a Nicola Strazzacarpa che ha raccolto quelle video noi l'abbiamo visto anche nel mio ma nel suo era proprio lì davanti ok Cesena Monopoli che goduria Sasso Marconi che delirio Scott Cobra Arlotti ci vediamo al derby sì complimenti a tutti giocatori società presidenza grazie presidente e grazie mister gaburro campionato tosto e difficile bravi a tutti buon Fantini on fire ah grazie grazie ok che bella giornata ci hai regalato il Rimini spero in questo gruppo naturalmente e che gaburro in primis venga riconfermato era un po' di tempo che non si vedeva il bel calcio domenica spero Romeo Neri Pieno come ai bei tempi e allora torno da Donatella gaburro va confermato Donatella allora io notizie ufficiali in questo senso non ce ne sono ieri il presidente ha confermato tutti almeno parlando come ha detto almeno per i giocatori non ha parlato di giocatori quello se ne occuperà poi il direttore sportivo però quanto riguarda staff dividenziale staff tecnico tutti confermati ufficialmente non è arrivato nulla secondo me ancora si devono sedere parlarne e si partirà presumo dal direttore sportivo di la verità Donatella anche una gerarchia da questo punto di la verità che si è salvato ieri gaburro hai sentito cosa ha detto baio no non ho sentito ha detto di la verità che si è salvato ieri gaburro da che cosa dall'esonero ma perché non mi dire sempre molto vicino non mi dire che c'era la formazione piena ieri ieri la Donatella Filippi per la prima volta in questo campionato guarda caso ha azzeccato la formazione del Rimini quindi gaburro è salvo era quello dici perché non contava più niente ah ecco quasi quasi perché c'era sempre quel punto da fare non dimentichiamolo non contava più niente non contava più niente e c'è chi ha cercato anche di farmela sbagliare non dico chi perché resto comunque una signora abbiamo qualche sospetto abbiamo sì adesso non vogliamo proprio ma per caso era qui in studio un po' di tempo fa no non dici comunque hanno cercato di farmela sbagliare c'è fatto quest'anno un complotto un complotto un complotto ok va bene allora intanto la vignetta più bella Bayo l'ha già fatta vedere ma deve andare a tardi magari non quella lì ho detto si è salvato non è più attuale quella vignetta adesso la teniamo in cantiere magari per la settimana prossima quella che quella a cui immagino tu faccia riferimento è la vignetta ricatto vera quella invece invece io devo lanciare ottica ferri ma qui abbiamo chi questo trofeo per il miglior under l'ha vinto perché abbiamo Scott che l'ha vinto per quanti anni ricordami che mi dimentico tre anni abbiamo Alessandro Parri che l'ha vinto l'anno scorso l'anno scorso Alessandro Pecci che non l'ha mai vinto ma che potrebbe potrebbe vincere quest'anno anche se quest'anno c'è una bella concorrenza e quindi non so non voglio farti crearti delle falsche illusioni perché quest'anno devo dire che Rimini ha avuto uno dei segreti di Rimini è stato che ha avuto degli under che secondo me insomma sono cresciuti tanto insomma complimenti davvero anche a chi ha scelti quindi al direttore sportivo Maniero perché ha fatto un lavoro direi davvero importante a proposito di Maniero l'ultima vignetta è proprio dedicata a lui allora prima andiamo da Otticaferri perché lunedì prossimo scopriremo il vincitore quest'anno chi sarà il miglior under bianco-rossa in campo e poi la vignetta A due passi da Rimini a Ospedaletto di Coriano puoi trovare l'Otticaferri che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze l'Otticaferri è da sempre vicina alla squadra bianco-rossa ti aspettiamo e forza Rimini Bene allora non approfitto per anche ricordare e ringraziare tutti i nostri sponsor tutti coloro che anche hanno permesso ieri la diretta della Rimini Calcio c'era anche Otticaferri tra questi anche altri che abbiamo visto in precedenza e quindi non approfitto appunto per ringraziare ancora una volta così come tutti gli sponsor che sostengono la nostra trasmissione comprensa fisichinitica che vedremo nel basket tra poco qui è ben rappresentata dall'uomo immagine Davide Lodichetti e poi vedremo però un grazie insomma sentito anche fisichinitica per essere nostra partner di Calcio.basket da tanti anni allora andiamo a vedere la vignetta di Maniero capolavoro del direttore quindi non potevo non essere d'accordo quando abbiamo parlato di capolavoro ha costruito ha costruito qualcosa di inespugnabile in perfetto Maniero giustamente giustamente e domenica Alessandro che si fa con il lentigione? ovviamente andiamo in campo per vincere noi quello è scontato poi la paura andiamo da così la paura fa in questo caso la mancanza di paura perché proprio penso che sia la partita proprio più tranquilla della storia la birra bisogna capire e quindi se riescono allora siamo siamo in chiusura allora siamo ai saluti siamo ai saluti e dopo devo salutare anche te perché adesso poi vedremo quanto andremo avanti con Calcio.basket nelle prossime settimane dipenderà anche l'arrivo nel pre-off di RBR di cui parleremo tra poco con il mito Larry Midleton quindi appassionati di basket rimanete qua allora grazie a Davide Drovichetti grazie a voi grazie ad Alessandro Pari grazie a voi a Scott Arlotti grazie a voi Robi ad Alessandro Pecci grazie a voi al nostro Baio grazie a te Roberto spero che Mary venga ingaggiata anche per l'anno prossimo magari con un ritocco vabbè ma ancora abbiamo qualche allungamento di contratto un biennale con l'opzione un biennale va bene grazie a Donatella Filippi e alla sua cabina alla sua cabina Armadio Armadio se volete al rinnovo del contratto di meriti penso io parlo io con Buffantini e lo sai che siamo solidarietà femminile solidarietà femminile grazie Donatella allora ma tra l'altro tra l'altro adesso che mi ricordano questa cosa insomma mercoledì mattina ci troverete e troverete anche la biondina anche la nostra l'area Giorgi il nostro portierone alla partenza del Giro d'Italia Sant'Arcangelo Reggio Emilia partenza alle 12.20 dall'arco Ganganelli nel centro nel cuore di Sant'Arcangelo noi siamo media partner anche di questo evento con il comitato locale e quindi insomma saremo in diretta anche su Icaro TV dalle 11 di mattina fino alle 12.45 per accompagnare proprio la partenza quindi sentendo un po' anche la piazza tutto quanto ecco se volete incontrare di persona Mary la nostra Ilaria potete farlo perché ci sarà anche uno stand di Icaro TV dove appunto troverete la nostra Mary troverete la nostra Ilaria che saranno pronte ad ascoltarvi anche a regalarvi qualche gadget perché abbiamo anche una bella cartolina che abbiamo preparato insomma tante cose non svelo non svelo il resto a questo punto abbiamo salutato e ringraziato tutti allora andiamo a vedere un po' ancora di immagini di festa di interviste soprattutto post partita dal campo di Sasso Marconi e poi dopo la pubblicità una grande serata basket con Larry Middleton e non solo per parlare dei playoff perché dopo la promozione del Rimini calcio adesso ci concentriamo sulla possibile promozione del basket diciamo incrociando le dita siamo arrivati a un punto che dovevamo chiuderla e i ragazzi sono stati o hanno fatto un anno fantastico pieni di umiltà ragazzi eccezionali io qualche successo l'ho avuto in passato ma veramente mi ha emozionato tanto perché è un campionato lungo e snervante è difficile perché non è non è semplice ci sono delle regolamentazioni e non era non era veramente facile mi ha veramente emozionato come altre situazioni magari più grandi ma è veramente un'emozione bellissima e ci sono dei ragazzi che fantastici io faccio il capitano quando non c'è Andreis Andreis ha dimostrato di avere grande responsabilità e io sono orgoglioso di aver indossato la fascia del Rimini è un'emozione iscrivibile per me il primo campionato vinto vorrei ringraziare tutta questa splendida gente per il supporto che ci hanno dato da inizio anno e forza Rimini sempre è una gioia grandissima siamo dal 3 agosto al 4 agosto che abbiamo incominciato questo percorso e tutti in fondo in fondo sognavamo questo momento e adesso che si è realizzato ci dobbiamo fare i complimenti dobbiamo goderci il momento e festeggiare questo mese qua oggi è staccato Gabbianelli sì me l'ha detto prima mi hai superato vabbè ma l'importante era era chiudere questa pratica era chiudere questa pratica e vincere il campionato è un'emozione incredibile e credo che ce lo siamo meritati dalla prima giornata ma sei domenica prossima una grande cavalcata da parte del Rimini una grossa cavalcata grazie a questo presidente a tutta la città che ci ha sostenuto è giusto esultare ve la siete proprio meritate perché insomma i punti che avete fatto le vittorie come è normale che sia alla fine il risultato pesava tantissimo e siamo andati un po' in difficoltà ma penso anche a Ravenna è andato in difficoltà e quindi penso che ce lo siamo meritati comunque alla fine perché 87 punti in un campionato non si fa in tutti gli anni è giusto così spero di rimanere anche per l'anno prossimo e fare i professionisti con questa maglia e intanto godiamoci questa festa e sono contento aver riportato il Rimini dove merita il successo è stato il grande gruppo e anche nelle difficoltà ci siamo sempre rialzati tutti quanti insieme senza senza diciamo abbatterci non abbiamo mollato e nella vita quando perseveri prima o poi la vita ti ripaga e a noi ci ha ripagato Cristian Marietta ha fatto secondo me come tutta la squadra tutta la società tutto l'ambiente è stata una stagione strepitosa ma volevo menzionare anche Giacomo Piretro che spero che domenica abbia l'occasione di mettere in mostra le sue qualità che sono importanti è stato un dodicesimo perfetto nel senso che il rendimento di Marietta è stato grazie anche a lui che si è sempre allenato alla grande intanto voglio fare i complimenti a tutta la gente dei Rimini i tifosi che sono venuti qua sono fantastici vincere qui per loro è stata la cosa per me più bella mi ha dato una soddisfazione immensa poi ovviamente per il presidente perché se lo merita perché comunque dopo alcune delusioni è giusto che gioisca perché è una persona che dove se ne trova veramente poche ma i segreti sono questi ragazzi qua i comportamenti che hanno avuto dall'inizio del primo giorno di ritiro sono sempre detto poi io sono ripetitivo ed è giusto che abbiano goduto oggi perché hanno dimostrato di essere i più forti i più forti dall'inizio alla fine grazie a tutti